Grazie a tutti, questa è la giustizia, la giustizia giusta e quello che mi preme sottolineare deve essere il rispetto dell'uomo e in questo caso è venuto a mancare. Grazie. Siamo rientrati in consiglio? Pare di sì. Contento, rispettavo il diritto. Ma contento, contento che c'è la luce, c'è la verità, nel momento in cui il Tribunale del Riesame, che è un organo superiore, dice che su 22 capi di imputazione, in tutte e 22 capi di imputazione non c'è alcun indizio di colpevolezza, mi sembra che è una bella cosa per me, fa luce, fa verità, è un momento di verità, ecco perché sono contento. Sono contento di rientrare per poter svolgere il ruolo che 4.500 lucani mi hanno assegnato, quindi di poter continuare a fare politica, che è una passione della mia vita perché voglio ricordare che prima di tutto io sono un medico, sono un pediatra e sentirsi trattate come un soggetto, così mi definisce la procura, socialmente pericoloso, che di socialmente pericoloso nella mia vita ho fatto, ho dato alle comunità la mia vita, insomma, stando a disposizione 365 giorni all'anno e chi mi ha intercettato sa benissimo che molte volte io rispondo dal telefono quando vengo interpellato anche alle 3, alle 4 di notte, ma c'è tanta responsabilità e amore per le proprie comunità, per i propri pazienti, quindi vedersi trattato come un delinquente è stata una cosa che mi ha messo profonda tristezza. Io ho chiesto, io non sono mai scappato davanti alla giustizia, come ho detto in consiglio regionale, quando ho saputo di essere indagato ho chiesto di essere sentito dal PM, dopo tre richieste si sono negliati di ascoltarmi. E' una cosa che ho sottolineato, è stato proprio l'aspetto umano che non bisogna trascurare, nel senso che loro fanno i magistrati, è giusto che loro indagino, ma devono indagare con rispetto del cittadino, perché si dice che c'è la presunzione di colpevolessi, ma io dal punto di vista mediatico sono stato condannato, sono stato offeso anche sui soci al trattato come un delinquente e chi mi conosce sa che è quello che io do alle comunità. Nella mia vita di pediatra ho visto migliaia di famiglie, ho accompagnato migliaia di ragazzi all'adolescenza, anche gratuitamente perché io potevo diventare ricco col mio lavoro, perché il mio ambulatorio, chi mi conosce lo sa, è un fiume in pieno, mi sono accontentato, ho deciso di rinunciare alla ricchezza per stare a fianco di chi ha bisogno, di fare il medico veramente come la concezione antica di medico. E allora tutto questo, questa vicenda mi ha mortificato, quanti carabinieri sono arrivati in ambulatorio davanti ai miei bambini, le famiglie sono rimaste traumatizzate, dice a lei dottore che da tanto non se lo merita una cosa del genere. Allora è arrivato il momento della verità, un organo superiore al PM e al GIP ha stabilito che in 22 capi di imputazione non c'è un indizio di colpevolezza, questa è la luce che io ho visto in questa vicenda in un momento molto molto triste che mi ha squarciato la vita, chi non ti conosce non è molto bello, ti tratta, dice vedi sono tutto uguale, non è assolutamente vero perché io nella mia vita ho sempre dato, ho sempre dato senza prendere più del necessario, io non ho mai preso più del necessario come medico potevo farlo, era un mio diritto, era il mio lavoro, ma non l'ho mai fatto, ho fatto il mio dovere, sono stato a fianco sempre ho tutelato le famiglie più deboli, li ho accompagnati nella crescita dei propri figli e ripeto essere definito individuo socialmente pericoloso mi ha mortificato un po', ecco